Volete una ricetta facile, buona e anche leggerissima? Tranquilla Luisa, ti aiuto io! Inizia a mettere il couscous in una ciotola con acqua sale e un cucchiaio di olio. Poi sbuccia una carota e tagliala a pezzetti. Ok, couscous messo. Parto anch'io con la carota. Ora fai la stessa cosa con le zucchine. Ok, fin qua direi che è facile. E la cipolla. Fatta anche questo. Metti tutte le verdure in una pentola e falle cuocere con un po' di olio. Sì, poco olio, dovevi girmelo prima. Taglia il petto di pollo e rosolalo qualche minuto. Stavolta non troppo olio, eh. Riprendi il couscous. Sì, ok, questa parte la so, è facile. Devo solo sgranarlo. Poi metto tutto insieme? Esatto, tutto insieme con un goccio d'olio. Sì, sì, il mio solito goccio. Assaggialo. Buonissimo. Oh, aspetta, mi arrivo. Buonissimo davvero. Quasi quasi lo porto anche a Simone in ufficio. Bella idea. Io ho il mio Leo.